Si è passata tutte le osse, madonna che disastro! C'è affetto? E adesso? Che ti puoi pagare? Allora... Che ti puoi pagare? In un ristorante diceva che stavo in giro di un quake Ti metto in giro di giro e stavo presento io Faccio, ma io sono quake... Ma vabbè, vabbè Tra i siedi ho cominciato a vedere cosa si fa Tra i siedi... Alla sera, quando finisce la giornata Ecco, se ti metto in giro, spieghi un quarto di salvezza mentre la borsa Spieghi un quarto di salvezza mentre la borsa E mentre la borsa... Ma la faccio una fornata Ma è buona se hai fatto il giro di domenica Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè Guardi, come è cosa? Il ladro, patrò Il ladro Il ladro Caccio, caccio Ecco, se la presenta la diede Vabbè, dici No, sì, non c'è bisogno Il cristiano non l'ha mandato Non mi piace la cosa che si fa E se ne vado Siamo sempre sempre andato Non so, qui Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè 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 è buono? trazzi il patro fa chiedere? come è con solto è buono patro, è buono come è fosca bene